675 body bags, cioè sacche per i cadaveri. Questo è il bilancio dell'operazione di recupero dei corpi ancora all'interno dell'imbarcazione naufragata nel canale di Sicilia nell'aprile del 2015. In realtà le vittime sono di più perché all'interno di una body bag sono stati posti resti che a volte appartengono a più di una persona. Lo hanno spiegato ad Augusta dove si trova il relitto responsabili dell'operazione Melilli 5. Vi confesso che per me è stato davvero impressionante quando ieri ho visitato per la prima volta il barcone, riuscire a immaginare come sia possibile che in uno spazio così angusto, così limitato ci potessero essere così tante persone.